Insieme, insieme. Grazie! 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 Grande! Grande Amalie! Sempre in stile! Un pronostico? Un pronostico. Ci aspettiamo ovviamente una vittoria del Napoli, una vittoria secca. Insomma, va da sé che ci dobbiamo divertire e gioire tutti insieme. Un pronostico per i L'Italia, Napoli 축구 e qualunque è diverso? Mi piacciono, io ho visto che non ho avuto due partenze, ma questa è più forte. La energia è più forte. L'ultima campionata è quando era? L'ultima campionata è quando era? Quando era il Maradona? Il Maradona è 1986. E dopo non c'è mai? Due scudetti abbiamo di seguito. 86, 87 e 89. Che stagione? Possibile scudetto? Facciamo le corna su scaramantico. Per cui non diciamo niente. Zitti. Monaco, giusto. Monaco, Napoli. Monaco, Napoli. è forte, ottimo è Napoli in Asia ottimo, ottimo Penalti che Quanti anni deve rimanere a Napoli? Kim? Io spero tutta la vita spero che sia la sua maglia definitiva o comunque diciamo una decina d'anni questi giorni hanno detto andrà a Manchester United No, ma sono tutte voci che si rincorrono ma nulla di fatto nulla di reale noi speriamo che Kim resti per il momento è a Napoli e godiamoci Kim a Napoli ha ha che ci sono sono che non non ne non 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 la non 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 che non è più buono Ma segnato per noi! Aciò, ma... ...ma... 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 ...ma segnato per noi... ...colf ti Viona ...ma segnato per noi". e guarda i video, ma sono iniziato a fare un po' di rai. Ah, certo? Il momento è finito. Ajax è uno sei. Quindi, Ajax forte squadra. Sì. Quindi, Cremonese non è tanto forte? No, va bene, ogni partita è a sé, capisci? Non sono tutte le partite uguali, poi loro si chiudono bene e il Napoli non riesce a concretizzare le azioni. Fiii!!! Fiii!!! Perchè, si chiudi la spagnia è un gruppo del polico! è stato molto diverso ma anche il team è diverso ma anche qui è più forte Ah, proprio? Ha fatto un pozzo? Ha fatto un pozzo? Sì, sì Ha fatto un pozzo Ha fatto un pozzo Ha fatto un pozzo Ha fatto un pozzo Un pozzo Ha fatto un pozzo Oggi è stato molto più Si sono davvero in quanto sciolta E comunque D'accordo? Mi sono raffreddata C'è un pozzo Come è davvero Noi Si Noi C'è un po' di qui è un po' di più religione. e e i 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 Ah, sì. Mi sono stato scusato, quindi io ho fatto che io credo che io ho capito che io ho capito, ho scusato che non mi sembrava. Allora, non è così, quindi non è così. Non è così. Quindi, non è successo? Allora, ora è proprio... Ah, certo? Allora, ora è successo, proprio proprio. Quindi, non è proprio proprio da un'unità. Ah, è proprio proprio diverso. Sì, è proprio 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 proprio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oggi la partita com'era? È stata difficile, loro si sono impegnati tanto, hanno pressato, triplicato la schiena, però l'abbiamo portato a casa nonostante tutte le vicissitudini. Forza Napoli sempre. Come era la partita? Un po' dura, ma alla fine ha fatto un killer instinct, però Crema Ness è una bella squadra, posso dire. Ciao. Ciao. Kim, 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 Kim. Il Papa. Ah, ok. Kim, tu sta per tutto. E lei, lei anche piace, ti piace anche Kim? No. Conosci qualcosa di Corea del Sud? No. No ancora? Ok, oggi com'era la partita? Bella e chi era bella dura. Ah, un po' dura. Quindi, chi ti piace il giocatore? Politano. Però prima quando c'era Mertens e Insignia, mi piaceva Mertens e Insignia. Cosa? Insignia. 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 E pure Kim. Kim. Ah, pure Kim. Papa! Oh, mamma mia. Grande. Grande Kim. Grande, Papa. Un presidente. Abbiamo un presidente. Un presidente. Serva, Serva. Serva, Serva. Clemente. Un presidente. C'è solo un presidente. Un presidente. Bello, bellissima. No, a me, bravo. Ancimato, lei. Serva. Serva, Serva. Serva, Serva. Serva, Serva. Serva, Serva. Serva. No, no. Interview this. Kimmi-je. 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 Oh, it was amazing. Amazing. Ma non è vero, perché noi non vediamo il match together. Ma non è vero. Grande, grande. Seva, numero uno! Seva, abbiamo bisogno di fare un film. Molto bellissimo. Napoli, Napoli, Napoli! Explosione! Cremona, in Serie B! Buon anno, Sèva! Buon anno, Sèva! Buon anno, Sèva!